musica ehm ok grazie mille perché siamo arrivati a 50 iscritti vi ringrazio per il supporto che mi state dando ok iniziamo vieni con me santo padre ti porto nella cucina di media shopping andiamo seguitemi abbiamo la cucina qua vedete questa mia credenza credenza dei poveri che poi ha chiamato santo padre il come prima cosa questi sono flauti leggete bene flauti si 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 leggo ora noi prendiamo uno di questo si mangia io dico flauto voglio suonare e allora questo flauto non suona un cazzo amici io poi mi devo incazzare attenzione andiamo a prendere questo allora anche quello si mangia ma c'è un po' cosa voglio fare lo yoyo tu lanci lui torna no non si lancia lo yoyo cosa vuoi fare cioè che si lancia e ritorna quello sapevo che era il moomerang non sapevo che era lo yoyo tu lancio questo yoyo non torna ma anche lo yoyo io non è che lo lancio fuori dalla finestra è certo che lo lancio fuori dalla finestra e io dico eh non c'è più buh un cazzo amici e allora io adesso mi devo agitare un attimo buh questa qua si sta eccitando troppo per me mettiamo via queste cose eh prendiamo penne voglio scrivere una lettera al santo padre ma se all'inizio aveva detto che quello che faccio all'intervista era il santo padre adesso io voglio scrivere una lettera what the fuck no sense andiamo santo padre io scrivo questa penna vedi io scrivo sul cartone vuoi scrivere una lettera sul cartone questo non secondo ritardo penne numero 2 scrivi sul cartone e allora sai cosa ti dico spreco di cibo time queste penne non scrivono cazzo amici ma che poi l'ha il cestino cosa fa c'è il cestino a due passi devo agitare qui non ne posso più adesso andiamo a prendere queste qui c'è scritto bene orecchiette vedete amici orecchiette con i denti l'ignoranza con i denti con i denti vedete amici orecchiette apriamo orecchietta io non sento bene metto l'orecchiette e non senti bene sì perché urli di quel tanto che magari non ti riesci neanche a sentire non sento più un cazzo e allora anche questa è una cazzata amici secondo spreco di cibo time come mai vendono solo stronzati in italia non capisco ora abbiamo pezzo pezzo forte pezzo forte sì di battuta squallida sì sì andiamo subito a sentire davvero anche persone che sono orecchiette moriranno è scritto qui uva passa uva passa allora bene immaginate un po' uva passa con cosa potrebbe abbinarsi prendiamo l'uva questa uva passa vedete passa 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 e non saluta avete capito uva passa e non saluta dopo di questa davvero è finito ma che cazzo posso fare io mi incazzo e faccio e uno e due e due amici lo squat e poi bicipite e adesso è il momento di salutare tutti gli amici perché se vado avanti così io muoro avete capito chi ha preso io muoro lo diceva bastiani c'è sempre coincidenze io non credo va bene vabbò poi da qua finisce il video così sono altri 30 secondi è tutto inutile allora iscrivetevi mettete like spero che il video mi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video beh